Musica Telespettatori ben ritrovati con informazione di Terediogene, oggi in primo piano l'ambiente, non c'era bisogno che ce lo dicesse il ministro Arramo Galletti ieri in Calabria, che si registrano ritardi in ogni settore. Sentiamo. C'è una netta relazione tra l'ambiente e la salute. Lo sanno persino i bambini più piccoli, che in un ambiente non sano si muore prima, ci si ammala di cancro. E quello che ha detto ieri il ministro dell'ambiente venuto in Calabria ci deve preoccupare, ci deve altamente preoccupare. Gianluca Galletti ieri è stato a Rosarno. A Rosarno che cosa ha detto? Non sono soddisfatto dei dati ambientali che riguardano la Calabria, anzi sono amareggiato perché mentre altre regioni si accingono ad aggiungere gli standard europei per la raccolta differenziata, alcuni addirittura con l'80%, la Regione Calabria all'11,7% della differenziata, la Regione complessivamente il 18,6%. Crotone al momento lo 0,1-0,2% perché anche se il dato non viene fatto, ma sappiamo tutti che a Crotone la differenziata non si fa. Un ministro dopo aver evidenziato una scarsa attenzione per la differenziata ha aggiunto che c'è chi preferisce le discariche e la termovalorizzazione alle regole. E' il caso di Crotone, non dimentichiamo che a Crotone è stato recentemente autorizzato un ampliamento della discarica di Columbra, un ampliamento di 2.200.000 metri cubi, non stiamo parlando di qualche piccola quantità di spazzatura, stiamo parlando di montagne di spazzatura. Per capirci, la discarica di farina, già di proprietà del comune di Crotone, dismessa da tempo, non arrivava neanche a un milione di metri cubi. Chi è stata a farina capisce che lì è diventata una vera e propria montagna, ma di questo parleremo più avanti. Quindi ha sottolineato che su 155 discariche abusive in tutta Italia, 43 si trovano in Calabria. L'intervento del ministro Galletti, che ha detto che la Calabria ha enormi ritardi in campo ambientale, sono ritardi accumulati in decenni. Arrivati appunto, questo ha detto nel suo intervento Galletti, arrivati al pettine e che nulla hanno a che fare con l'attuale amministrazione guidata dal Presidente Oliverio. Quindi non è un fatto di oggi, ma infatti è legato ad anni e anni di malgoverno della salute del territorio calabrese. Da ministro non posso essere soddisfatto, non dimentico, inoltre il dissesto idrogeologico. Questo intervento di Galletti arriva a qualche giorno di distanza dallo studio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità, che analizza il SIN Crotone Cerchiare di Calabria. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, oggi ci torniamo perché il Corriere di Calabria, su questo studio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità, curato da Pietro Comba e Massimiliano Pitimida, del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, e su questo studio appunto si parla anche della situazione delle bonifiche. Bonifiche. E si parla della situazione che c'è nel piano che prevede la bonifica di Crotone e Cerchiara. Ricordiamo che sono diversi i siti inquinati in Calabria. Il piano addirittura delle bonifiche risale a un'indagine conoscitiva condotta nel 1999. Da quell'indagine è emersa l'immagine di un territorio fortemente deturpato dall'elevato numero di discariche e zone di abbandono di rifiuti presenti nella regione. Ci sono quindi diversi siti inquinati e il più inquinato di tutti è quello di Crotone. Nello studio epidemiologico si fa riferimento alla situazione di Crotone e Cassano e Cerchiara che è un sito di interesse nazionale, che significa di interesse nazionale, che per la presenza di inquinanti la competenza non spetta né alla regione Calabria né ai comuni interessati alla presenza di questo inquinamento, ma direttamente al Ministero dell'Ambiente. Quindi un sito dove l'inquinamento è a livelli davvero astronomici. Il SIN, quindi Crotone, Cassano e Cerchiara, sono gli ultimi due comuni che ricadono nel Cosentino e confinano tra di loro, è stato individuato come sito di bonifica di interesse nazionale. Il territorio del SIN comprende tre aree industriali dismesse a Crotone, l'expertusola, l'exfosfotec ed agricoltura. Le discariche sempre a Crotone, il locale di Attufalo, quella di Farina, quella di cui vi ho detto prima, la fascia costiera prospicente alla zona industriale di Crotone, che comprende tra le focce del fiume Esero e quella del fiume Passo Vecchio. Vi ricordo che in questa zona a cui fa riferimento questo articolo è la zona, non di Farina, ma si chiama Farina Trappeto, che è la zona parallela alle fabbriche, quella dove sono stati stipati tonnellate di veleni che ancora non sono stati manco ben identificati. Di sicuro c'è anche radioattività. Le principali aree private con le rispettive criticità ambientali sono l'ex agricoltura, quindi l'ex Enichem, che ospitava impianti chimici in cui la contaminazione dei suoli, delle acque, di falda è dovuta ad ammoniaca, fosforite, cloruro di potassio, pirite, additivi, poi l'ex fosfotec SRL, con contaminazione di tipo chimico, di suoli e acque, di falda è causata da presenza di fosforite, quarzite, fosforo e acido fosforico. Il polo metallurgico di Ex-Pertusola, primo impianto nazionale della meteorologia dello zinco in cui risultano contaminati i suoli e le acque di falda, quindi non solo il suolo, ma anche le acque sotto, la falda dell'acqua, significa che va a finire a mare, va a finire nelle verdure quando queste acque vengono utilizzate per irrigare, l'area industriale di proprietà di diverse imprese private in cui la contaminazione deriva dalle attività di stabilimento Ex-Pertusola Sud e vede la presenza di metalli pesanti, zinco, cadmio, rame, arsenico. Insomma, la nostra situazione da questo studio è davvero inquietante, è davvero inquietante. La discarica è inquietante nell'area industriale, ma inquietante anche per la discarica in località Tufolo. Copre una superficie di 7 ettari e si trova a circa 4 km a sud di Crotone. Ormai questo dato non è più così perché si trova ormai nel centro abitato. A Tufolo le case sono state costruite proprio sotto la discarica, al ridosso della discarica, confinanti con la discarica. Ha iniziato la sua attività nel 1975, questa discarica. Il volume complessivo dei rifiuti abbancati è pari a 990.000 metri cubi. Questo è il dato. Quindi quasi un milione che vanno aggiunti ai 2.200.000 che sono stati autorizzati, ma in quella discarica sono abbancati altri milioni, a quella di Colombo, altri milioni di rifiuti. Perché si è esaurito la prima autorizzazione. La tipologia dei rifiuti è la seguente. Speciali, rifiuti soli di urbani, fanghi di depurazione civile, rifiuti alluvionali, cioè quelli derivanti dall'uvionale del 1996, in quella discarica di farina stiamo parlando. Si sospetta la presenza di rifiuti sanitari è pericolosi. Insomma, la situazione di questa città è drammatica e tutti fanno finta di niente. E a proposito di ambiente di bonifica, ha previsto per il prossimo 27 maggio un incontro a Crotone tra il presidente della regione, Mario Oliverio, i sindacati e Confindustria. Come vi abbiamo anticipato ieri, la riunione prevista oggi per la firma dell'accordo tra l'ENI, la Sindial e la regione Calabria, il presidente Mario Oliverio, presso la prefettura di Crotone, slitta data da destinarsi. Perché? Perché Oliverio è stato chiamato a Roma niente meno che dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che lo ha voluto immediatamente a Roma perché vuole concretizzare i progetti per l'accordo per la Calabria. Lo vuole fare subito. Sarà un fatto elettorale, sarà perché ormai Matteo Renzi è in campagna elettorale per quanto riguarda il referendum di ottobre, il referendum costituzionale che prevede la modifica del Senato. Sarà questo il motivo, però Renzi lo ha convocato d'urgenza a Roma. E quindi Oliverio è dovuto correre lì e sarà lì due giorni. Però la questione della bonifica dell'area industriale di Crotone sarà ripresa nei prossimi giorni. Il 27, Oliverio verrà a Crotone, questo ci è stato riferito, il 27 verrà a Crotone e incontrerà i rappresentanti di Confindustria e del sindacato. Con loro faranno un punto concreto sulle attività da svolgere. E l'attività invece, la firma, l'accordo con la Sindial dovrebbe essere sottoscritto dopo le elezioni comunali, dopo il primo turno delle elezioni comunali. Più o meno questo è l'idea che sono i tempi che si sono dati. Quindi subito un incontro il 27 maggio prossimo con sindacati e Confindustria dove fanno un punto ben preciso su come deve essere la bonifica e subito dopo l'accordo con Leni, sottoscrive l'accordo con Leni per dare il via concreto alla bonifica. Questa è l'idea almeno che ha Oliverio che il 27 maggio prossimo sarà a Crotone. Ieri alla presenza del sottosegretario ai beni culturali onorevole Dorina Bianchi e dei versici provinciali delle forze di polizia presso i locali della prefettura di Crotone è stato sottoscritto un protocollo di legalità che ha, quale parte, lo stesso ufficio territoriale del governo, un'industria a Calabria e Confindustria a Crotone ne parliamo con il presidente di Confindustria a Crotone Michele Lucente. Accordi in prefettura che riguarda la legalità, un protocollo sulla legalità è stato sottoscritto ieri sera alla presenza di un rappresentante del governo nazionale che è Dorina Bianchi sottosegretario ai beni culturali del prefetto ovviamente di tutte le forze dell'ordine delle massime rappresentanze delle forze di Confindustria che cosa è questo protocollo? Intanto glielo facciamo dire a lui ma noi lo sintetizziamo. Da questo momento in poi anche le pratiche che riguardano attività imprenditoriali e private devono avere il controllo da parte della prefettura per la certificazione antindrangheta. Più o meno è questa la cosa. Diciamo che noi abbiamo come associazione voluto lanciare un messaggio al mondo imprenditoriale non solo ai nostri associati ma anche ai nostri non associati che quello di evidenziare come la città di Crotone la nostra provincia ha bisogno di un'economia stabile e un'economia stabile avviene solo se le nostre attività crescono e lavorano e si confrontano all'interno dei confini della legalità. Per fare questo era necessario creare un documento un protocollo d'intesa appunto con la prefettura che è la sede del governo sul territorio dove all'interno venivano richiamati quelli che erano gli strumenti che già Confindustria Nazionale offre ai propri associati come il codice d'etica il protocollo di legalità la possibilità di poter richiedere attraverso Confindustria Crotone ma tutte le Confindustria d'Italia alla prefettura i certificati antimafia per le aziende ma anche per i propri fornitori. Una parte centrale e anche la parte privata perché finora questa cosa riguardava solo le pratiche pubbliche. Esatto oggi lo può fare anche il privato e questo è un fatto questa è la cosa straordinaria di oggi la cosa straordinaria è questa naturalmente all'interno del protocollo viene anche emesso la possibilità per le aziende che aderiscono di poter inserire all'interno di contratti privatistici con i propri fornitori la clausola della risoluzione immediata del contratto nel caso in cui il fornitore durante la prestazione dei servizi riceva un'interdittiva antimafia anche per altri motivi anche per altri cantiere per altre operazioni e l'altra novità che ha voluto un'industria calabria perché questo è un protocollo che si è firmato ieri a Crotone ma era stato già sottoscritto sia a Catanzaro che a Cosenza e successivamente lo faremo anche a Reggio Calabria e a Vivo quindi tutte e cinque le province calabresi è quella della costituzione di una commissione per il rispetto di questo protocollo territoriale in cui faranno parte sia membri della Prefettura di Crotone che di Confindustria e servirà non solo a vigilare affinché queste operazioni si possono portare avanti affinché la Prefettura possa nei limiti dell'impegno delle risorse umane riuscire ad accelerare prima possibile il rilascio dei certificati antimafia ma soprattutto vuole essere non un punto di arrivo ma un punto di partenza per un dialogo più forte dove portare i nostri associati verso lo strumento della denuncia verso una collaborazione più forte con le forze dell'ordine e vedere le forze dell'ordine veramente come una parte sana delle nostre aziende che ci aiutano a costruirle e a crescerle appunto in un'economia stabile che poi coinvolge le nostre famiglie e anche i nostri figli Non sono più disponibili i 7 milioni di euro che erano stati promessi per l'ammodellamento delle strade provinciali e domani si terrà un'apposita seduta del Consiglio Provinciale Non ci sono più i 7 milioni di euro che erano stati promessi dalla Regione Calabria ai sindaci del Marchesato il giorno della protesta cioè la Regione Calabria i sindaci del Marchesato che vivono una situazione viaria davvero drammatica avevano dato vita a due giornate di protesta poi c'era stato l'incontro con la Regione Calabria nell'incontro con la Regione Calabria c'era stata la promessa di mettere a disposizione 7 milioni di euro nella giunta regionale dell'altro ieri questi soldi sono stati destinate ad altro una parte di questi soldi sono stati destinati al campo sportivo di Crotone 2 milioni e mezzo poi una parte alle attività della depurazione insomma questi 7 milioni da quando è stato possibile apprendere non ci sono più e ci sarebbero a disposizione solo 600 mila euro per questo ieri c'è stata la protesta dei sindaci del Marchesato che avevano messo in piedi quell'iniziativa hanno chiamato Vallone e hanno chiesto un intervento di Vallone in qualità di Presidente della provincia Vallone per domani mattina da quello che è stato possibile apprendere ci hanno comunque riferito ha convocato una riunione di consiglio provinciale esposti al museo nazionale di Crotone tre nuovi reperti ne parliamo col direttore del museo dottor Aversa il dottor Gregorio Aversa è il responsabile del nostro museo il museo nazionale ovviamente stiamo parlando di Crotone che quotidianamente viene visitato abbiamo visto poco fa anche una fila di gente di turisti che venivano perché evidentemente il richiamo delle opere che sono custodite all'interno di questo museo è grande a partire dal tesoro di Erma ce ne sono tanti ci sono tre nuovi pezzi che ultimamente avete messo nelle teche uno è questo di che cosa si tratta? Allora questa è una statua crotteriale decorava un edificio un edificio che si trovava a capocolonna ora provvisoriamente l'abbiamo posizionato da qui perché abbiamo riallestito finalmente dopo tanto la grande vetrina del piano terra poi la sposteremo nella sezione dedicata a capocolonna ci sembrava giusto presentare con l'occasione il nuovo materiale quindi questo è uno poi l'altro andiamo a vedere dove è l'altro questo bronzetto questa sfinge alata che trasporta un cadavere un defunto quindi lo sta portando all'altro mondo lo sta portando all'aldilà e che doveva decorare questo bronzetto un cofanetto forse o uno specchio insomma un oggetto non qualcosa di legato alla morte ma un cofanetto il richiamo c'è la decorazione la colonna fa pensare a un cofanetto funerario no no è stato trovato in area di abitato quindi doveva essere un oggetto di uso comune quotidiano e infine l'ultima cosa molto bellissima questa è bellissima beh questo è il pezzo più sensazionale che in questo momento possiamo dire di avere è stato riconsegnato dopo tanto tempo dal museo archeologico di Milano ed è di fatto un talismano si tratta di una piccola stele in basalto nero egizia quindi molto interessante il fatto che si trovi un oggetto egizio qui a Crotone con una serie di maledizioni da parte del possessore quella che si vede dietro no è tutto iscritto anche davanti riproduce nell'immagine centrale oro che è questo fanciullo divino figlio di Iside e di Osiride che portava sfiga o perché diceva che era no diciamo che il oro difende e protegge il possessore dell'ammuleto quindi speriamo che difenda e protegge il nostro museo sì l'ho messo forse per scaramanzia visto che c'è stato problema per questa vetrina magari l'ammuleto potrà difendere la vetrina e tutto il museo speriamo sì sì io sono comunque contento perché l'afflusso dei visitatori sta veramente andando a crescere quando quante ne abbiamo avuto avete quantificato nel mese di maggio no francamente in questo mese non l'abbiamo quantificato ma sono migliaia sì 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 qualche sempre stranieri parecchi stranieri ecco questo mi sorprende che tanti siano stranieri quindi vuol dire che il richiamo è veramente internazionale siamo sotto controllo da parte di tutti e a proposito di antichità sotto l'antica cinta muraria di Crotone nei pressi della villa comunale aperti al pubblico stamane e alcuni sotterranei le sorprese a Crotone non finiscono mai oggi viene consegnato alla città uno spazio che era sconosciuto del tutto perché qui una volta questa è la cinta muraria sopra c'è ci sono i giardinetti comunali quella che noi chiamiamo impropriamente la villa comunale qui ci sono sono stati ristrutturati dei locali che la città non conosceva perché l'intervista all'assessore perché con la politica non vogliamo avere niente a che fare in tempi di elezioni infatti sta intervistando l'architetto non l'assessore l'assessore non lo possiamo fare che è candidato allora entriamo vediamo che cosa siete riusciti a produrre con questo progetto questo progetto con quali soldi l'avete fatto allora questo è la pq centri storici è un progetto che era partito nel 2009 e che però ha trovato poi il finanziamento nel 2013 e nel 2013 ci hanno finanziato una parte di questo progetto che è ancora in corso di esecuzione perché come può notare ancora non abbiamo nemmeno finito la riqualificazione esterna e abbiamo questo qui nella fattispecie è il recupero delle porte d'accesso della città di Grotone e come ci rientra questa questa è parte del progetto delle porte d'accesso della città di Grotone ma questa non è una porta d'accesso questa non è una porta d'accesso perché la porta d'accesso è più avanti la porta di accesso e la porta della pescheria che è più avanti è quella più avanti e le altre due sono conigliera e lì dove c'è dove c'è il piazza Duomo e le entrate allora entriamo e vediamo quello che avete realizzato con quanti soldi l'avete realizzato questa cosa allora questo era un appalto che complessivamente era 600.000 euro ma di lavori diciamo diviso sui tre lotti alla fine saranno intorno ai 400.000 euro di lavori allora che c'è qui e questa qui è la prima sorpresa perché qui c'era una parete una parete chiusa più murata si è assolutamente murata intonacata e non si vedeva nulla quando siamo venuti a fare i lavori hanno cominciato a pulire il pavimento si vede che c'era un buco guardiamo dal buco e vediamo oltre vediamo oltre emozione bellissima perché capiamo una stanza segreta assolutamente abbiamo demolito ed è venuto fuori questo vano qui che non siamo ancora riusciti a riqualificare perché quello che vede sotto è tutto terreno di riempimento noi abbiamo provato a fare dei saggi e lì c'è perlomeno ancora un altro metro e mezzo di roba da asportare c'è una stanza una stanza abbastanza è una stanza è un vano è un vano voltato questa fa parte tutta della struttura che regge le mura della città e su qui sopra c'è il terrapieno della villa quello che noi conosciamo come l'affaccio della villa il bel vedere della villa ed è un vano bellissimo un vano segreto chissà che c'era qui dentro ma probabilmente nulla queste sono quelle leggende metropolitane che diventano realtà nel senso che tutti quanti abbiamo sentito parlare di questi vani di questi cunicoli che portano a capocolonna eccetera non sappiamo quanto c'è di vero di vero c'è questo qui che abbiamo che stiamo per vedere di sicuro questo c'è questo qui sono queste stanze qui avete ricavato un bagno dei servizi e perché la gente che viene deve poter andare ai servizi questo sarà destinato a bookshop appunto informativo d'accordo qui c'è un punto di informazione assolutamente sì e andiamo avanti ancora un'altra stanza assolutamente ma quante stanze c'erano? e allora qui c'erano due vani e poi c'era questo cunicolo che era completamente chiuso e che è una meraviglia e che adesso le faccio vedere infatti qui c'è un altro spazio sì ci sono tutte queste nicchie tutti questi locali che sicuramente erano spazi non è che erano delle cantine ma chissà la temperatura ci starebbe tutta vede poi siamo terre di vini e poi si esce qui si esce e sbuchiamo in un altro giardinetto nel giardino Badenpaguel quindi la soddisfazione è proprio questa di questi locali che non c'erano e che invece l'impresa baffa splendidamente lavorando splendidamente con la direttrice dei lavori ricordo e saluto che l'architetto Carricola hanno fatto un ottimo lavoro la Svizzera la Svizzera no quella è la Gruber no no l'architetto Carricola no vabbè questo è questo è il posto e qui siamo sotto al belvedere della vita quindi oggi lo restituiamo alla città l'assessore all'urbanistica è quello che però non lo possiamo manco nominare l'assessore non lo nominiamo ma lui è stato sicuramente di grande stimolo e ci ha seguito con lo stesso entusiasmo perché noi architetti ci facciamo prendere la mano dall'entusiasmo quando facciamo questi lavori un gruppo di circa 200 migranti di nazionalità eritrea ha inscenato questa mattina una protesta nel centro d'accoglienza Sant'Anna di Isola Caporizzuto del quale sono ospiti l'intervento massiccio delle forze di polizia ha evitato che i migranti bloccassero la statale 106 che corre parallela al centro la protesta è scaturita dalla richiesta del gruppo eritreo di lasciare l'Italia ed essere trasferito in altri paesi europei appare dunque secondario il pretesto della mancata distribuzione delle segrete il giorno prima la protesta i migranti sono rimasti seduti davanti ai cancelli dal centro di Sant'Anna controllati a vista dalle forze dell'ordine con i gruppi di pronto intervento di carabinieri e polizia schierati in tenuta antisommossa la protesta iniziata intorno alle 11 ha avuto anche dei momenti di tensione con alcune cariche delle forze dell'ordine per evitare che degenerasse e potesse coinvolgere anche gli automobilisti sulla satale 106 lungo la quale comunque la circolazione è stata regolare ed ora il pungiglione davanti al museo di Crotone i turisti ci sono eccoli lì che fanno la fila davanti al museo di Crotone per entrare all'interno del museo che ne pensano quei turisti di questa sporcizia che c'è davanti al museo quasi quasi ci verrebbe la voglia di chiederglielo ma facciamo finta di niente anche se probabilmente vengono da posti dove la pulizia le strade sono talmente pulite che ci si può mangiare a Crotone i turisti li accogliamo in questo modo e la situazione non è migliore in un altro punto cruciale della città ovvero via la regina Margherita che ci stanno a fare le isole ecologiche è una domanda che avremmo dovuto porre a chi a quel cittadino che è venuto a buttare qui questi rifiuti non ci sono arrivati da sole ma a 300 metri da qui alla rotatoria del Gesù a 300 metri non di più c'è un'isola ecologica dove queste cose non avrebbero creato l'imbarazzo che creano qui però hanno preferito lasciarle qui perché i crotonesi siamo fatti così è meglio abbruttire un marciapiede di un viale importante come questo qui d'altra parte anche questi resti poi di secchi di pittura meglio buttarli lì in modo che la gente capisca quando siamo a sozzoni è più giusto così insomma è più giusto così anche questa plastica perché andare all'isola ecologica è meglio abbruttire questa città così non ci viene nessuno e ce la teniamo solo noi anche se poi saremmo costretti a mangiarci l'uno con l'altro che importanza è una cosa nostra tutta nostra anche questa è una cosa comune l'immondizia la sporcizia la bruttura ce la facciamo ce la mettiamo in brodo tra di noi domani alle 10 presso il pallamilone di Crotone sarà dispuntata la finale del terzo torneo di calcetto calcio a colori organizzato dalla rete Sprar del comune di Crotone alle 10 presso l'auditorium dell'istituto Pertini Santoni promossa dall'associazione italiana prevenzione bullismo si terrà la rappresentazione solo una rosa ovvero antigone nei secoli iniziativa dell'università popolare mediterranea domani alle 16 e 30 presso l'aula consigliare del comune di Crotone con una conferenza su relativa alla consegna del premio marchesato di Crotone per la ricerca storico sociale ed Enrico Mastracchi tra giornalismo politica e sindacato alle 17 di domani una delegazione della squadra FC Crotone farà visita allo showroom del maestro Michele Affidato partner della società Crotone Calcio che in occasione del traguardo storico della promozione in serie A ha realizzato la linea di gioielli Red e Bull Confcommercio e l'Ilt oggi firmano un protocollo d'intesa per sostenere la prevenzione oncologica nella nostra città per promuovere benessere e corretti stili di vita allora Giovanni Ferrarelle è il direttore di Confcommercio e poi c'è lo sappiamo tutti quanti il responsabile della lì allora firmiamo questo protocollo Sì promuoviamo quello che è il benessere globale diciamo nella nostra città rispetto a quelli che sono giusti stili di vita e quindi è normale che la Confcommercio rispetto a quelle che sono le proprie politiche che sta portando avanti negli ultimi anni si associa con la Lilt per cercare di prevenire e cercare di informare nel giusto modo noi come prima iniziativa anche di carattere un po' più più pratico abbiamo messo su quella di io posso entrare la possibilità di partire di fare entrare gli animali all'interno Sì di fare entrare e sensibilizzare perché sappiamo che l'animale spesso è di aiuto a chi lotta contro determinate malattie e quindi cerchiamo di sensibilizzare e ricreare un clima familiare più favorevole rispetto a quelle che sono le situazioni difficili che vengono affrontate quotidianamente La Lilt quando si tratta di fare accordi per salvaguardare la salute dei cittadini ce la mette sempre tu Sì io infatti ringrazio il direttore Giovanni Ferrarelli proprio per questa comunanza di spirito che abbiamo incontrato infatti abbiamo già fatto qualche progetto insieme e il fatto di sensibilizzare i cittadini in questo caso tutti gli aderenti anche al confcommercio è opportuno proprio per perché insieme si può combattere questa malattia che è un giusto stile di vita con un ambiente sano che purtroppo a Crotone non c'è ma noi ce la mettiamo tutta per cercare di migliorarlo questo ambiente e quindi anche tutte queste iniziative che faranno parte del protocollo d'intesa che stiamo firmando stamani con Fugcommercio fanno parte di questa progettazione nell'ambito del percorso di legalità per Lea Garofalo io gioco per Denisa domani alle 9.45 marcia della pace e della legalità partendo da Pagliarelle fino al campo sportivo Vaccarizzo e poi alle 11 partita di calcio tra la consulta degli studenti di Milano e la consulta degli studenti di Crotone io gioco per Denisa poco nuvoloso visibilità ottima e vento di 5 nodi il tempo previsto per domani su Crotone provincia con 21 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 14 la minima ed ora il bollettino nautico del Marlioni o tempo vento da sud ovest forza cinque in attenazione e parzialmente nuvoloso visibilità buona mare mosso tendenza vento da ovest forza 3 e parzialmente nuvoloso bene la nostra informazione per oggi è terminata grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti